in mezzo al secondo tempo in serie c ci godiamo l'illuminazione artificiale allora ma detto un amico all'intervallo che questi hanno ricordato un sacco di partiti al novantesimo invece da una zona accesa e rinicalda quindi qua è maschietta a un corpo fino al triplice fischio e lascia la la lascia la la che l'hai perso la palla che gira ma l'oro sono due la palla è l'oro manata per rossetto sembrava impossibile riuscire a recuperare la palla e invece mai dire mai bontà pace weiser vai in tro pace rossetti rossetti dentro ma come ha fatto ma come ha fatto ma via rossetti e sono due come ha fatto a mettere quel pallone rossetto 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 r Grazie